Se mai dovessimo lasciare qualcosa che potesse durare migliaia di anni dovremmo utilizzare, come dicevano i greci, le ossa della madre terra. Qualcosa in grado di resistere al passare del tempo e quindi qualcosa di pietra. E la pietra è l'elemento scelto dalle più antiche civiltà per realizzare le proprie opere più imponenti. Civiltà di un passato lontano di cui non si parla nei libri di storia ma di cui restano solo appunto tracce pietrificate. Le abbiamo viste queste tracce a Machu Picchu, Cusco, in Egitto, a Tiwanaku, in Bolivia e anche sull'isola di Pasqua. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo seguendo le tracce e ve le abbiamo mostrate. Ne abbiamo trovate anche in Italia, in un piccolo centro abitato, le cui origini sono normalmente fatte risalire addirittura a prima dell'antica Roma. Ma forse c'è qualcosa di più, un popolo più antico, un progetto più ampio, una città gemella in Mesopotamia e un oscuro legame con i Templari. Tutti indizi che potrete sommare per elaborare la vostra conclusione. Siamo pronti ad arrivare in un luogo magico, un luogo italiano, un tassello di questa storia. Si chiama Alatri. Allora, quando mi trovai dinanzi a quella nera costruzione titanica, conservata in ottimo stato, quasi non contasse secoli e secoli, ma soltanto anni, provai un'ammirazione per la forza umana maggiore di quella che mi aveva ispirata, la vista del Colosseo. L'oscura acropoli collocata sul vertice di una collina, mura ciclopiche che ancora conservano il loro mistero. Un antico popolo venuto da lontano, tracce di Templari, un labirinto. Questa è Alatri, come la raccontava lo storico tedesco Gregorius nel 1858. Ci troviamo ad Alatri, in provincia di Frosinone, nel basso Lazio. Stiamo per intraprendere un affascinante viaggio nel tempo. Tutto comincerà nel 1700 a.C. Vedremo delle sorprendenti mura ciclopiche. Arriveremo fino ad un enigmatico labirinto scoperto solo pochi anni fa. Le mura poligonali dell'acropoli di Alatri sono costituite da grossi poligoni in calcare, estratti nelle vicinanze e giustapposti a secco. Sono molto funzionali sia per scopi difensivi, ma anche perché resistevano bene alle sollecitazioni telluriche. Le mura poligonali sono mura costruite con grandi blocchi megalitici, tagliati in forme bizzarre, irregolari, diverse dal quadrato o dal rettangolo. Per questo motivo sono molto più difficili da costruire. Bisogna estrarre le pietre dalla cava e poi tagliarle una a una per incastrarle perfettamente l'una sull'altra. Mura come quelle che ci sono ad Alatri e nelle altre centri del centro Italia le hanno costruite soltanto l'Inca. Lunghe oltre due chilometri, le mura poligonali di Alatri, dette anche pelagiche o ciclopiche, raggiungono i 21 metri di altezza nel punto più alto, per una profondità massima stimata in alcuni punti in 10 metri, e racchiudono un luogo religioso, ma anche sicuro, l'acropoli della città. Queste mura, realizzate tramite la messa in opera di grandi massi lavorati, accostati e sovrapposti senza l'utilizzo di calce, sono un'opera incredibile, la cui particolarità è proprio quella della lavorazione senza malta e della precisione dell'incastro. Per anni si è ritenuto che la loro funzione fosse quella prettamente difensiva e che a costruirle furono i Romani. Opera complessa e grandiosa, quanto tempo sarebbe stato necessario per concluderla? Probabilmente dobbiamo ipotizzare un periodo di almeno una dozzina di anni. La cinta muraria, quella più imponente, quella che noi attualmente vediamo, era preceduta probabilmente da una cinta muraria più antica, che siamo nel V secolo a.C.